All'inizio di ottobre del 2018 si avvicinava la festa del Pilar, un evento importante a Saragossa, e avevamo bisogno di assumere una persona. Lui si presentò come cuoco. Il suo modo di fare in cucina era molto divertente. Era spassoso, arrivava cantando Los Chunguitos. Stavo vivendo una vita del tutto normale. Andavo a feste, cene, concerti con gente e amici. Semplicemente non rivelavo la mia vera identità. Volevo evitare di essere rintracciato dal gruppo di persone che mi aveva minacciato a Madrid. Non mi sono mai nascosto dalla polizia. Se veramente lo avessi voluto fare, sarei andato via dalla spagna.